The Building, Hotel 4 Stelle al centro di Roma, presenta Gourmans, ristorante immerso in un'atmosfera avvolgente e suggestiva, dove gustare il meglio dei sapori mediterranei. Un'ampia scelta di cucina internazionale ed etnica, con materie prime di ottima qualità, magistralmente interpretate dallo chef Andrea Kossalter. Ristorante Gourmans, presso Hotel The Building, in via Montebello, 126, Roma. Ristorante Gourmans, presso Hotel The Building, in via Montebello, 126, Roma. Roma Multiservizi S.P.A. Da oltre 25 anni garantisce altissimi standard qualitativi e di sicurezza per il settore pubblico e privato. Operiamo nelle scuole, negli asili, in aree verdi ed edifici con servizi di sanificazione, assistenza, pulizia, igiene, manutenzione, sicurezza e agibilità. Siamo un'azienda leader nei servizi integrati con il 97,5% di soddisfazione del cliente. Contattaci sul sito romamultiservizi.it Roma Multiservizi, la nostra professionalità al vostro servizio. Il mondo della notte può, anzi, dovrebbe essere considerato come volano di sviluppo per il territorio, sia dal punto di vista economico che culturale. È il luogo in cui i giovani trovano la loro dimensione, sperimentano la socialità, vivono momenti di svago e di condivisione in un'epoca in cui la vita è sempre più schermata dallo smartphone. Sono diversi gli spunti di riflessione che bisognerebbe cogliere per capire l'importanza di questo mondo, che nei due anni di pandemia è stato demonizzato, abbandonato, lasciato a se stesso e che ancora oggi non viene capito, né tantomeno vengono sfruttate appieno le sue potenzialità sociali e lavorative. Durante quel periodo l'abbiamo denominato il mondo dei dimenticati. Cercheremo di approfondire questo fantastico mondo con gli ospiti dell'odierna puntata. Diamo il bentornato al produttore di eventi, marketing e comunicazione, Davide Tosi. Salve. Buonasera. Buonasera. Do il bentornato al presidente Sistema Impresa Roma, Francesco Pasquali. Buonasera. Buonasera. Bentornata Simona Martiradonna di Asso Intrattenimento. Buonasera. Buonasera. Do il benarrivato al discoteca 24.000 Baci, Rino Polverino, che li vedo dopo dieci anni con estremo piacere, devo dire. Benarrivato al presidente del Silva, Antonio Flemini. Buonasera. Buonasera a voi. Benarrivato al PR organizzatore, Angelo Cervo. Buonasera. Benarrivato. E diamo il benvenuto in collegamento al presidente di Asso Intrattenimento, Luciano Zanchi. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera. La vedo con piacere. Possiamo dire che il mondo delle discoteche variegato è anche un mondo in realtà di sperimentazione, è anche un mondo culturale. Questo sembra che non venga assolutamente visto dalla politica. Dai locali sono nati tantissimi gruppi, sono nati mode. È veramente un mondo di sperimentazione, soprattutto è anche uno dei pochi posti dove la socialità è ancora in auge tra i giovani. Però questo mondo viene demonizzato. Flamini, come mai secondo lei? Qui ci sono delle radici che partono da molto lontano. Intanto c'è una demonizzazione della notte. Quindi il mondo della notte in senso generale viene demonizzato. E conseguentemente il mondo dei locali di intrattenimento. Cosa sbagliata? In parte bisogna fare anche un esame di coscienza, dipende anche da alcuni di noi. Però è sicuramente sbagliata perché l'attività dell'intrattenimento notturno non deve rappresentare una minaccia, ma è sicuramente una grande opportunità. Da diversi punti di vista. Economico, di occupazione, turistico, culturale e sociale. La fermo un attimo sul turistico perché la questione turistica è un mio pallino, lei lo sa perfettamente. Sul turismo c'è tutto un mondo. Noi siamo il paese più bello del mondo, il paese più biodiverso al mondo. Abbiamo le maggiori unicità, siamo il paese a livello culturale, non c'è proprio Tosi, 7 a 0 con tutti. Però un turista viene e sta in Italia, soprattutto a Roma, mediamente 2-3 giorni. Lo stesso turista magari sta a Berlino, Parigi, posti che hanno a livello monumentale un decimo, un ventesimo di quello che abbiamo noi per 4-5 giorni. In questo, Presidente, è anche perché manca la parte ludica, la parte del divertimento. Non è strutturata, non fa parte della cultura politica, non è valorizzata. Sicuramente non è valorizzata per quello che dovrebbe essere. Però, ecco, io partirei da qualche anno fa. Negli anni Ottanta, Roma rappresentava un luogo di intrattenimento, di qualità e di fermento culturale e artistico. Era il centro europeo, no? C'era una notte che non era la seconda a nessuno, forse era uno dei più importanti sicuramente d'Italia e d'Europa. C'erano locali significativi, locali importanti, c'erano grandi DJ che hanno fatto un po' la storia dell'intrattenimento notturno. E c'era un movimento culturale proprio che si svolgeva attraverso la frequentazione dei locali notturni romani. La politica purtroppo è andata contro questo movimento, se così vogliamo dire, culturale. Lo ha boicottato continuamente a favore di cose che non si capisce, che non avevano sicuramente l'importanza invece che c'aveva e che ha questo settore. E quindi la conseguenza è che oggi non c'è quel tipo di attività, quell'importanza che dovrebbe avere quel tipo di attività come c'era un tempo. Sono state fatte delle leggi sbagliate, sono stati limitati gli orari, le attività eccetera. Bastava invece in qualche modo controllare alcuni particolari e incentivare gli aspetti virtuosi e positivi per far sì che l'attività di intrattenimento notturno a Roma rappresentasse invece un volano culturale ed economico. Ho letto un articolo pochi giorni fa molto interessante, adesso è esplosa perché qui si parla ovviamente nel nostro paese, gli argomenti sono monotematici, quindi prima c'è solo il Covid, poi dopo c'è solo la guerra e adesso c'è solo questa storia del rave che è diventata, sui giornaloni, sul mainstream si parla solo di questo. Ho letto una serie di articoli proprio riguardanti invece una cultura libera del divertimento, una cultura, appunto la parola è giusta, quello che è successo in altre città europee, quello che diceva lei è assolutamente giusto, Roma negli anni 80 e 90 era un po' il centro della musica, da qui nascevano le tendenze e c'erano tantissime situazioni divertenti e a Roma venivano centinaia, migliaia di giovani un po' da tutta Europa per divertirsi. Oggi questa asse si è completamente spostata in altri posti, tipo Berlino, in altre realtà. Martì Ladonna, come mai secondo lei questa cosa? È d'accordo con quello che diceva il Presidente Flamini? C'è poca attenzione della politica, una non valorizzazione di questo comparto, che invece è un comparto sì di divertimento ma anche sociale e culturale? Beh, il problema principale è la mancanza che adesso c'è, questo Ministero del Turismo, che dovrebbe essere invece quello più attenzionato, perché le ricchezze che abbiamo potrebbero permetterci, se gestite da gente capace a livello manageriale... Cosa complicata? A livello manageriale ci darebbe veramente forse un pil pro capite che ci consentirebbe di non lavorare forse, perché abbiamo talmente tante ricchezze che se messe a reddito avremmo veramente dei risultati eccezionali. Quello del turismo è una mancanza grave, gravissima, che c'è stata fino adesso e non so che cosa aspettarmi dalla nuova organizzazione del Ministero e siamo così in attesa che le cose accadano e se non c'è però una struttura, se non c'è una programmazione, se non c'è un'attenzione a promuovere cose che si promuovono da sole, poi, non c'è veramente, bastano le fotografie, non c'è veramente, non richiede nessuno sforzo. E se accadrà questo veramente avremo una svolta, avremo... Noi ce l'auguriamo, anche perché adesso è veramente un mondo attenzionato, ma solo attenzionato e negativo. Manca completamente quello che stava dicendo lei poco fa. Mi puoi far vedere il braccio cortesemente? Che io so che ha avuto, purtroppo. Lei è venuta qua giusto per l'affetto che ha nei miei confronti? Io l'amo, me lo so. Esattamente, perché in realtà doveva andare al pronto soccorso. Cosa è successo all'interno del suo locale? Ricordiamo che è uno dei pochi locali a Roma dove in realtà c'è un movimento molto importante di turisti. Cioè a Roma, per esempio, dovrebbero essere implementati... A Roma, in provincia, insomma nel Lazio, ma un po' in tutta Italia, dovrebbero essere implementati anche questi posti, perché il turista poi vuole anche divertirsi. Da voi lo fate in modo egregio. Che è successo ieri? Allora, io premetto per chi non lo sapesse che il mio locale lavora al 60-70% con gli stranieri. E ultimamente, come già ho detto altre volte, è tornato un bellissimo turista, un bellissimo turismo proprio di livello, una bellissima gioventù, anche gente di target più adulta. E ho il mondo universo da me, veramente le... Il mondo universo, questa ce la rivendiamo. Il mondo universo, sì, veramente. Ieri sera è successo che io faccio un paio di notti di turno totale fino alle 5 del mattino, durante la settimana, ed ero in ufficio, che dà proprio sull'ingresso del mio locale. Che può anche menzionare, non è un problema. Sì, siamo al centro di Roma, siamo al Pantheon, e la strada dove si affaccia il mio locale è una strada molto stretta, e quindi il lavoro più faticoso che abbiamo è quello di mantenere comunque il rispetto dei residenti, che giustamente devono avere la loro vita e dormire. Quindi è un lavoro difficile, perché la strada è piccola, perché ho di fronte proprio le palazzine con i residenti che vivono lì. E ieri sera non si riusciva a calmare queste due ragazzette straniere, non siamo riusciti a individuare se spagnoli o magrebini. Due ragazze su di giri, veramente fuori di testa, tanto che io, lo sentite dall'ufficio, e sono scesa giù perché non capivo perché la sicurezza non riuscisse a gestire la cosa. Era ingestibile. Strillavano come due gallinacce, e praticamente il problema è che non si può toccare. Cioè, come le gestivano? Le dovevano bloccare fisicamente? Guarda, io le devo dare un premio, perché insomma, venga, si mette al posto mio. Io la ringrazio quando mi fa fare la pariette, io sono una donna felice. Dopo che è stata aggredita ed è venuta oggi qui, ecco, questo è quello che è successo ieri. Devo dire, quindi grazie insomma per essere intervenuta. Prego, mi parlate delle due galline? Allora, sarnazzavano sulla strada e il mio timore più grande era quello di ricevere l'ennesima denuncia per schiamazzi notturni e disturbo della quiete pubblica. Ora, questo è un punto importante, poi sentiamo anche il presidente Zanchi, perché in realtà in un locale dove ci sono persone, può capitare che al di fuori qualcuno faccia cose strane, o ci siano le galline starnazzanti. Ecco, il rischio è che il locale poi prenda delle denunce. Ma le prendi proprio? E che poi chiude, cioè questa è una follia, uno non può gestire. Ogni denuncia ha un peso, non è che è fuffa, è proprio un peso che poi ti portano il conto tutti insieme quando queste denunce diventano numerose. Quindi, essendo insomma anche stanca alle 3.10 del mattino e non tollerando più di tanto, devo dire, sono scesa giù e ho detto scusate, le testiamo, guardi, sono sempre così impagata. Una mammola. E mi chiedevo perché non riuscissero a gestirle. Che cosa succede? Che effettivamente non c'era modo, perché strillavano, barcolavano perché erano anche un po' ubriache e non si riusciva a capire che cosa volessero. Non siamo riusciti ad allontanarle e quindi ho iniziato a dire loro, dovete andare via da qui, dovete andare verso il Pantheon. E l'hanno aggredita. A un certo punto questa, io stavo all'interno del tappeto dove ci sono anche i cordoni che delimitano la zona di accesso. Questa mi arriva lì e mi prende il braccio, mi ha graffiato come avete visto. Quella gallina è una tigra, direi, mi permetta. Ecco, mi ha graffiato e mi ha buttato a terra il telefono e stava per avventarsi addosso a me. A quel punto uno dei ragazzi della sicurezza l'ha agganciata, l'ha presa di peso e l'ha portata verso via di Torra Argentina, dove grazie a Dio... una pattuglia dei carabinieri. Hanno avuto molta fatica loro a poterle gestire, proprio erano fuori controllo. E queste urlavano, con grande piacere di sentirle, italiani di merda, diciamolo, no? L'ha detto ormai, che devo fare? Come gli pare? Il che, devo dire, mi predisponeva molto... Giustamente, lei si è arrabbiata per dire che si è cazzata, giustamente oggi per sfogare... Devo dire che forse dovevo essere a un certo punto, forse contenuta io per gli istinti che ho sentito, perché è veramente una forte violenza. Questo per dire tutto ciò, mi perdoni, perché questa è la storia che l'abbiamo raccontata, è una storia abbastanza particolare, per capire quanto è difficile e difficoltoso poi il lavoro che loro fanno. Lo fanno con tanta passione, hanno dei locali, ancora ci vanno, fanno le 5 del mattino. Cioè, è veramente un lavoro che va rispettato. Presidente Zanchi, allora, ha sentito questo racconto particolare? Ma nell'insieme, nel nostro paese, viene tutelata pochissimo questa categoria, che in realtà è un viatico di socialità, musica, ma anche di cultura. Questo non viene assolutamente visto dalla politica. Come mai? In che modo vi state interfacciando come associazione con il nuovo comparto del Governo e con il nuovo Premier? Buonasera. Fino allo sfinimento abbiamo cercato di far comprendere al precedente Governo quali erano le problematiche, tra le quali, molto importante, anche quella delle aggressioni ai nostri associati e ai loro dipendenti, che sono perpetrate da persone che non hanno alcun interesse a calmarsi, a fermare i propri volenti spiriti. Perché in Italia abbiamo una norma, si chiama Articolo Centro, il testo unico della legge di pubblica sicurezza, con la quale il questore può decidere, senza passare da un giudice, da una terza parte che giudica, di chiudere il locale. Proprio chiude il locale perché è un problema per la collettività. Non importa se ci sia colpa o meno del gestore, ma il questore può comunque decidere di sospendere l'attività. In genere lo stanno facendo in tutta Italia con una grande solerzia. Noi ci siamo rivolti anche alla magistratura, ci siamo rivolti al Ministro dell'Interno, sia da quando c'era Salvini, poi i successivi. Ci rivolgeremo anche al Ministro attuale, perché dobbiamo rivedere questo genere di attività delle questure. Non è pensabile che un'azienda privata che deve per forza privi battenti lavorare, incassare per mantenere i propri costi, impendenti, eccetera, è impossibile che per una scazzottata, perché siamo arrivati a questo, il questore decida di chiudere per dieci giorni un'impresa privata. E questa è una questione. Ma ritengo che il vero problema è che nel Covid è stato assodato che le discoteche non sono l'arca dell'infamia della notte, perché succedevano peggio cose che durante l'apertura delle discoteche, durante il Covid, nelle piazze e nelle pubbliche vie. Quindi è chiaro che le discoteche sono sia un ricettacolo di gente, ma noi siamo aggregazione, rappresentiamo e vogliamo rappresentare l'aggregazione, però sicura, però è un'aggregazione che viene fatta in posti dove è possibile ospitare un certo numero di persone in tutta sicurezza e dove se qualcuno conti sia sbagliata, può essere indicato il responsabile, che è il titolare dell'attività. Quindi, prendiamo le nostre responsabilità, ma tutto accade dalla liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi. Da quando è stato liberalizzato l'orario di apertura dei pubblici esercizi, abbiamo assistito a un notevole aumento dei pubblici esercizi che non sono dotati di attori di pubblica sicurezza e quindi non possono far ballare, che invece lo fanno. Lo fanno infischiandosene delle norme e lo fanno con la protezione e con l'assenso sidente degli amministratori comunali e delle forze di polizia che non intervengono pur se questi soggetti vengono segnalati. E quindi io ritengo che questo sia un gravissimo problema. È assolutamente grave, mi perdoni Presidente. Tra l'altro vogliamo ricordare un po' di numeri. In questo periodo, fortunatamente, i locali di Daballo, le discoteche un po' in tutta Italia, poi lei ci dirà se è così, ma credo di sì, stanno andando bene. C'è tanta voglia di divertirsi, c'è tanta voglia ovviamente di ballare, di fare socialità, quello che per due anni non si è potuto fare. Però le persone non si rendono conto di una serie di problematiche. Ha un aumento dei costi imbarazzante, quindi un aumento dei costi dall'acquisto di cose da bere all'acquisto dei bicchieri, insomma tutta la filiera aumentata in modo esponenziale. Dei costi energetici che sono triplicati, credo, triplicati più o meno, più o meno a spacca e pesa sono triplicati. E poi sono delle categorie che per un anno e mezzo o due non hanno lavorato, quindi stanno lavorando, no, stanno un po' recuperando quello che non hanno guadagnato, quello che hanno rimesso nei due anni precedenti. Quello che volevo sapere, quanti locali hanno resistito, perché tanti hanno chiuso anche qui a Roma e più negli ultimi due anni. Cioè che percentuale di locali sono rimasti in piedi? Guardi, eravamo fermi al 2019 con una perdita già all'ora del 30% dei locali, perché c'era una grande crisi che era innescata proprio da questo tipo, questa fenomenologia dell'abusivismo. Durante il Covid abbiamo perso un ulteriore 30% dei locali resistiti. Siamo passati da 3.000 a 1.500 locali oggi in Italia che esercitano questa tipologia di attività. Cioè la metà praticamente. Eravamo 90.000 addetti più altri 90.000 sono quelli assunti non direttamente ma indirettamente alle nostre imprese che sono i disgiochi, la sicurezza, i ballerini e le ballerine. Abbiamo perso il 50% di questi impiegati. Quindi oggi se rappresentavamo prima un mondo con 3.000 imprese e 180.000 addetti oggi rappresentiamo esattamente il 50%. Un mondo completamente dimezzato, un mondo non aiutato dalla politica, devo dire, un mondo che invece andrebbe assolutamente tutelato. Allora io do il ben arrivato, mi scusi, le passo a fianco, al Rino Polverini della discoteca 24.000 abbaci. Allora uno degli imprenditori coraggiosi che hanno deciso di continuare a esercitare, ovviamente. Cioè ci vuole coraggio per continuare a fare questo lavoro con tutte le problematiche che ci sono, con l'aumento dei costi, quindi in realtà i guadagni sono diminuiti in modo importante. Poi dopo due anni, dove due anni uno c'era un'attività, se doveva pagare un affitto, che faceva? Infatti uno su due anni è chiuso. Secondo me se doveva pagare l'affitto, oggi c'è il cuore in questa attività, o ce l'hai dentro o non ce l'hai, praticamente, per cui è un lavoro che devi amare, soprattutto, oltre al lato economico, ma è un lavoro difficile, è un lavoro che, secondo me, un ragazzo che vuole iniziare oggi diventa complicato, perché le spese sono eccessive. Il guadagno non è più quello degli anni 90, praticamente, dove i locali lavoravano a pieno regime. Questi anni 90, anche il Presidente Flamini, poi sentiamo anche i tosi, sono rimasti del cuore di tante persone, perché è veramente, fino agli anni 80, soprattutto negli anni 90, noi lo possiamo dire, Roma, Roma, nel senso, l'Italia in generale era il centro nevralgico del mondo della notte europea, non ce n'era per nessuno. Esatto. Praticamente, se questo lavoro, o lo ami, e continui a farlo, perché lo senti, praticamente, e poi, quando investi in un'azienda come la mia, che sono circa 3.000 metri quadrati, e in questi due anni e mezzo mantenerli, perché molta gente non sa che mantenere il locale i costi che ci sono, praticamente, perché vanno curati giorno per giorno, puoi lasciare due anni e mezzo un locale fermo senza curarlo, praticamente. Ma poi il lavoro che c'è dietro, mi perdoni, ma poi... Ma le persone... Ma la programmazione, no? La programmazione, le persone assunte. Io le faccio un esempio, mi perdoni, per esempio, lei decide oggi di programmare il suo locale, ma anche la martiradonna, o chiunque abbia un locale da ballo, già oggi si sta iniziando a lavorare per Capodanno, per le festività importanti, sono mesi e mesi e mesi. Allora, presumibilmente, le faccio un esempio, lei per Capodanno ha iniziato a pensarci da imprenditore qual è magari sei mesi fa, sette mesi fa. Infatti noi abbiamo preparato il Capodanno di due anni e mezzo fa. Gli imprenditori fanno così, però sette, otto mesi fa magari la sua bolletta era di cento. Oggi la sua bolletta è di trecento. Lei ormai il Capodanno l'ha lanciato e il costo rimane uguale. Quindi va a diminuire il gap di guadagno, il margine, no? E questo è il problema grosso. Esatto. Quindi ci vuole tanta passione, ma anche tanto lavoro. Poi vede che succede. Prego. E questi sono inconvenienti che noi, che molta gente non capisce e delle volte siamo, usciamo sui titoli cubitali, sui giornali che ci massacrano, ci rovinano la nostra immagine. Guardi, io non bevo, non mi drogo, sono una persona attenta a qualsiasi cosa nel locale durante la serata e pure delle volte per una piccola rissa usciamo in carattere cubitali sui giornali uscito dalla discoteca e ci distruggono la nostra immagine. Io le stringo la mano perché insomma con tanta passione le fa veramente onore. No, veramente. Cioè, ci ha messo... È la mia vita. Veramente, è frizzantino. Però è importante, prego. La maggior parte degli imprenditori sono così, eh? Faglielo capire ai nostri amici politici, ai laureati in scienze confuse che non sanno da che parte vivono. La maggior parte degli imprenditori sono come Rino Polverino. È chiaro. la qualità dei nostri imprenditori è molto elevata. Per carità, qualche peco da nera c'è anche nel nostro settore, ma come in tutti. Però, questo non giustifica quello che diceva appunto Polverino. Cioè, che noi usciamo in grandi titoli sui giornali, basta una scazzottata, una cosa... io mi rifaccio a quello che diceva il presidente Zanchi. Tra l'altro, io spero che le sue previsioni... Zanchi, Zanchi, guardi, qui ho Flammini. Ce la fate a fare una cosa insieme fra Sib e al suo intrattenimento? Assolutamente sì. Riuscirete a fare un po' più, eh? L'abbiamo già fatto. Qui c'è bisogno di categorie che difendano... Tanto difendete più o meno un comparto che è assolutamente importante. Ma l'abbiamo già fatto e sicuramente faremo altre cose insieme. Ce l'auguriamo. Gli interessi degli imprenditori vengono prima di ogni altra cosa. Gli interessi del settore vengono prima di ogni altra cosa. Faceva riferimento a dei numeri che io mi auguro che non siano proprio quelli, nel senso che noi il bilancio lo faremo alla fine dell'anno. Perché molti imprenditori stanno riaprendo, si stanno risistemando, si stanno rimettendo a posto. Insomma, diamo ancora un margine di possibilità... Di sopravvivenza. Io spero, in senso positivo a molti dei nostri associati. E poi, quando si faceva riferimento all'articolo 100, che per noi è, diciamo, un elemento di particolare attenzione, abbiamo proposto ai passati governi e riproporremo adesso al Ministro Piantedosi una modifica dell'articolo 100 che possa contemporare la buona volontà da parte del gestore di collaborare laddove non c'è sua responsabilità. Perché non si capisce per quale motivo un gestore che non ha responsabilità che magari chiama le forze dell'ordine si trova in locale chiuso. Poi deve essere penalizzato. Questa è una cosa assurda che non esiste in nessuna parte. Ma è chiarissimo. Solamente perché poi si vuole dare un segnale. Ma che segnale si dà? Il segnale è quello che la volta dopo l'imprenditore non chiamerà le forze dell'ordine. E poi, mi perdoni, mi perdoni, aggiungerei che non si può fare tutta un urban fashion, nel senso che se ci sono delle situazioni tipo il rave, di cui ormai parlano tutti, ragazzi, perché qui la comunicazione in questo paese è una comunicazione monodirezionata. Tutto il rave, il mondo della notte, gli imprenditori, sono questi. Non c'entrano nulla persone che fanno delle iniziative che tra l'altro in altri paesi tipo Berlino vengono invece in qualche modo percepiti dalla politica in modo diverso e diventano culturali. Viene fatta di tutta un urban fashion e questo non è assolutamente giusto. Ma l'altro problema che giustamente dice il Presidente Framini è che il problema dell'articolo 100 che per noi ci sta stretto da morire perché è una piccola... Ma l'altra cosa importante è che ci sono altri locali simili alla discoteca che non sono discoteche che la gente esce da un pub ma i giornalisti scrivono esce dalla discoteca. Questa cosa non riesco ancora a capirla. E a dire ma è possibile che quello non è uscito dalla discoteca? Perché dovete scrivere uscito dalla discoteca? Perché fa più notizia? E poi basta che mi perdoni che voglio spezzare una lancia a favore della categoria che poi se lo fa un collega a questa cosa dato che oggi c'è questa voglia di lanciare una notizia per primi senza verificarla se io scrivo una cazzata scusate il francesismo ma di una cazzata si parla la cazzata nel giro di 5-10 minuti viene proiettata all'ennesia potenza e quel locale magari ne subisce dei danni importanti e questo non è assolutamente giusto con milioni di euro investiti esatto vi ricordo che il mondo della notte è una filiera prima di parlare con persone che frequentano questo mondo e soprattutto che hanno fatto che questo mondo diventasse un vero e proprio lavoro perché i numeri che ci ha detto il presidente Zanchi sono numeri importanti volevo sentire Pasquale Presidente i proprietari di locale il mondo della notte le associazioni utilizzano i corpi intermedi tipo voi per sgravi fiscali situazioni di questo tipo oppure non sono informati io credo che negli ultimi tempi sono stati presi su altre faccende penso alla questione Covid ma quello è un risparmio che possono avere nel cassetto fiscale sì però sicuramente magari come associazioni datoriali siamo stati molto poco incisive sotto quegli aspetti perché è un mondo di nicchia infatti prima veniva evidenziato dal presidente Flamini che la politica si è in parte disinteressata io invece credo che spesso si sia interessata troppo e avversando quel mondo proprio perché con vecchi facili luoghi comuni magari messa nella stringa più sicurezza e quindi diciamo vengono messe delle norme che stringono troppo e spesso ci sono le ordinanze comunali che sono peggiori delle leggi nazionali perché poi sono i sindaci che spesso incidono in modo negativo su quello che è la vita notturna del paese nel prima indicava la realtà romana la realtà romana purtroppo fa fatica a riprendere e incide in modo negativo moltissimo sulla questione legata al turismo quindi io credo che come associazioni dobbiamo stare sicuramente più a fianco e segnalare tutte quelle che sono quelle bontà della normativa che poi si incide da un punto di vista fiscale va da sé che ripeto ci sono delle norme come si faceva appunto riferimento all'articolo 100 che spesso demotivano quel tipo di attività e spesso secondo me il rischio che si possano aumentare anche le pecore nere è dietro l'angolo perché magari le istituzioni non sostengono quelle realtà positive ma poi mi permetti meno locali regolari ci stanno ricordiamo che per aprire un locale è una follia totale ci vogliono decine sono soggetti a mille controlli sulla sicurezza è devastante i costi che devono sostenere le uscite di sicurezza le attività cioè sono dei luoghi sicuri sono dei luoghi sicuri esattamente e meno locali sicuri ci sono più situazioni abusive si vanno a creare perché giustamente c'è quella volontà di divertimento soprattutto le nuove generazioni che secondo me vanno tra virgolette non custodite ma alimentate non dico neanche in modo positivo perché io non sono per quell'approccio mettiamola così che deve dare delle indicazioni di condotta all'individuo io sono per il diritto all'essere felici quindi diciamo consentire qualsiasi contesto affinché una persona liberamente possa esprimermi questa la utilizziamo per il titolo di un film il diritto di essere felici lei ogni tanto ha queste perle di saggezza meravigliose dicevo ci sono persone ovviamente che hanno fatto del mondo della notte un vero e proprio mestiere allora Cervo io le do il benarrivato allora lei fa il PR e l'organizzatore in che modo è cambiato il suo lavoro negli ultimi quant'è che lo fa 10 anni 15 20 30 sono quasi 20 anni sono quasi 20 anni vabbè giovanissimo ancora comunque beh insomma dai punti di vista diciamo diversamente giovane diversamente giovane ho iniziato un po' tardi allora come è cambiato in questi 20 anni perché secondo noi è andato impeggiorando è andato decisamente peggiorando anche perché poi dal punto di vista organizzativo e pubblico e relazioni si entra in un settore ormai estremamente vasto no? perché una volta le pubbliche relazioni erano quegli opinion leader che era un lavoro professionale era un lavoro professionale anche se non è mai stato riconosciuto e l'abbiamo visto durante la pandemia che non abbiamo avuto noi operatori non siamo riconosciuti neanche da nessun codice adecco quindi ovviamente proprio non abbiamo avuto nessun tipo di aiuto tranne forse quelle 500 euro che a modi e l'emosina ci ha fatto lo Stato ma al di là di quello come è partita IVA però al di là di quello e per quanto ritornando sulle pubbliche relazioni la parte organizzativa ovviamente mentre appunto all'inizio degli anni 90 ma anche 2000 insomma lei c'era in quel periodo già stava sul campo in quel periodo negli anni 2000 già iniziava gli anni 90 andavo come cliente andavo a trovare il Tosi che organizzava eventi importanti poi ne parliamo adesso sennò mi si monta la testa invece adesso sicuramente prima era un discorso dove si riunivano quelle 4-5 persone appunto che erano i veri opinioni e stabilivano una serata una festa che era quella che doveva andare io per spezzare una lancia a quello che dico che mi sta dicendo lei che è assolutamente interessante in tempi non sospetti per un periodo il Tosi ma anche noi abbiamo fatto gli organizzatori io ricordo che per una persona che organizzava una persona che faceva la comunicazione di un evento una persona che faceva il PR c'era tutto un lavoro dietro cioè facevi serata a tema un lavoro ti studiavi le coreografie studiavi determinate cose cioè facevi sì che ci fosse oltre al divertimento anche il bello e la cultura questo si è praticamente perso si è perso adesso è un po' un copio col venino dice io la faccio ancora non abbiamo dubbi old school proprio no invece con l'avvento dei social e quindi ovviamente quella parte che è andata molto più sull'etere che sulla sostanza della persona fisica una volta io mi ricordo quando ho iniziato con la famosa tessera telefonica con i famosi gettoni facevi dalla cabina perché da casa non potevi chiamare o con i flyer o i flyer andavi a distribuirli per via del corso c'erano insomma tante tante situazioni però il problema è che adesso c'era un contatto fisico invitavi la persona invitavi l'amico lo vedevi ci parlavi adesso non è più così che effetto le fa perché so che lei ovviamente oltre a fare il piede dell'organizzatore in tanti locali è anche la voce del locale che anche quello è un mestiere ed è un mestiere molto particolare perché poi per fare quello che si chiama in gergo il vocalist devi conoscere la musica perché ci sono tanti che starnazzano ecco per usare un termine le ho rubato il termine o meno consenta Martina Donna oggi mi sento buona oggi è buonissima ed è un lavoro difficile che effetto le fa trovarsi in discoteca e vedere il 30% del pubblico che passa la serata così invece di divertirsi di parlare di comunicare di stare insieme ma quando entrate ascoltatevi una bella voce divertitevi andate a un locale serio andate agli eventi di Tosi socializzate conoscetevi invece di stare così a vivere una vita tramite uno strumento cioè è una vita vissuta indirettamente una vita schermata una vita schermata bravo bel termine che effetto le fa? beh ovviamente è un po' triste è un po' triste perché appunto venendo da una scuola dove c'era il contatto umano era e rimane ovviamente primario vedere questi giovani che insomma i nuovi ventenni che puntano più sul fare la storia su Instagram che il viversi in quel momento la serata diciamo loro dicono che è un nuovo modo di divertirsi in confidenza tanto non ci vede nessuno ma se lei conosce una ragazza in confidenza lei conosce un approccio con questa ragazza ho compagni e figli però ragazzi mi raccomando è un esempio è un esempio ovviamente sempre per lavoro e tu vuoi rivederla e lei ti risponde aggiungimi su Facebook e lei gli dice ma io sono qui ma guarda Facebook è già è già un po' già si salva no è già un po' retro e ormai è su Instagram è fuori in moto ma perché ti sto parlando eh no ma qui è la nuova loro praticamente mettono come barriera questa situazione che molte volte i profili sono chiusi quindi poi dopo ti dovranno accettare una volta dovevi dare il numero di telefono ed era già impegnativo però quanto era più bello molto assolutamente il numero di casa Tosi lei di telefoni li collezionava ai tempi d'oro mia mamma metteva il lucchetto al telefono non ho dubbi a riguardo avete il lucchetto per troppi numeri che ne pensa di com'è andata questo percorso del mondo della notte italiano perché è un percorso in realtà purtroppo dove abbiamo perso una delle eccellenze del nostro sistema paese ma l'intrattamento italiano nasce proprio da quello che diceva Polverino una volta si faceva questo loro con passione io mi ricordo per organizzare una serata noi eravamo lì mesi e mesi e mesi di organizzare gli eventi mi ricordo che prendiamo la macchina e arriviamo fino a Napoli per consegnare i biglietti pubblicitari oggi non esiste più un direttore artistico no non esiste più ci sono dei direttori artistici che che non lo sono diciamo che non lo sono non sanno manco che vuol dire perché oggi l'intrattenimento è studiato animazioni show è un vero proprio come dice è un mondo dove oggi mi dispiace che purtroppo anche la politica o chi lo gestisce non capisce l'importanza di un locale all'interno di una città molto importante come Roma Milano Firenze o Bologna però le volevo dire con piacere anche di sé appunto perché è una cosa che a volte mi rende basito spesso e volentieri in provincia ci sono situazioni uguali se non superiori a quelle delle grandi città come mai c'è un altro spirito c'è ancora un'attenzione al particolare ci sono imprenditori che hanno voglia di divertirsi per quale motivo secondo lei non è d'accordo Flamini su questo no no ho una risposta dopo la sentiamo non è che la provincia magari in provincia c'è delle realtà diciamo o c'è un locale o due locali a Roma ci sono 20 locali quindi è più facile è più facile però nella provincia posso dire che anche i costi di gestione saranno diversi nella provincia l'unica cosa che è rimasta in provincia l'importante è che ancora c'è la cura del particolare ok mentre la grande città non è in grado tranne alcuni locali importanti di Roma non è in grado di gestire anche no ha capito quello che dice lei quindi c'è poca attenzione al particolare al servizio vabbè non da tutti però che vuole dire non da tutti no ma in parte quello che ha detto anche lui diciamo che nelle grandi città ci sono molte più alternative di divertimento rispetto magari ai piccoli centri oppure a quei locali diciamo che sono in luoghi appunto poco poco abitati quando ci sono tante alternative è chiaro che poi alla fine la gente si divide Roma ce ne ha tantissime uno esce la sera e c'ha tantissime secondo me sono pochissime le dico la verità da persona che abita a Roma secondo me le alternative a Roma belle diciamo che forse sulla qualità non sono tante forse sulla qualità posso essere d'accordo ma sulla quantità no ci sono tantissime possibilità di divertimento lei doveva ballare così mi porta non parlo solo di ballare io parlo proprio di opportunità di divertimento dal concerto al ritrovo al teatro ci sono tante possibilità cioè secondo lei Roma è una città che via di notte? ma purtroppo no ma torniamo al discorso che ho fatto io all'inizio adesso è vero che la politica forse si è interessata troppo da un certo punto di vista però da un altro punto di vista si è interessata poco perché era un'opportunità non era sicuramente una minaccia all'intrattenimento chiaro era una grande opportunità un'opportunità di mettere in competizione Roma da un punto di vista turistico per quelli che sono i flussi giovanili e non solo giovanili ma è certo in competizione con le grandi capitali europee mentre da altre parti tutto ciò è stato valorizzato a Roma no a Roma è stata vista come una minaccia quindi hanno cominciato con i controlli ossessivi hanno cominciato con delle rimiate regole con le chiusure con le chiusure senza sviluppare un'opportunità una possibilità che avrebbe fatto invece di Roma avrebbe continuato a fare di Roma un punto di riferimento per i giovani ma non solo per i giovani perché tutte le persone che vengono a Roma tutti i turisti che vengono a Roma ma dopo una certa ora che fanno? Vanno a letto questa è l'alternativa che vorrebbe e che ha voluto una certa politica io mi auguro e spero che questo cambi perché altrimenti se no non si va da nessuna parte Presidente Zanchi questo deve cambiare anche perché insomma veramente a parte Roma ma un po' in tutta Italia lei ci ha dato dei numeri impietosi quindi un esercizio regolare più o meno su due hanno chiuso stanno per chiudere quindi sono numeri questo va a implementare poi quell'abusivismo di cui tanto si parla o meglio a cui tanto piace parlare ai giornaloni denigrando una categoria dove ci sono invece centinaia migliaia di persone che ci lavorano e centinaia migliaia di imprenditori che lo fanno con onestà con passione e pagando le tasse certamente finché rimaniamo in uno stato dove il governo e i suoi rappresentanti vi ricordo il nostro caro e ben amato senatore Giovanardi che nel 2008 ebbe la brillante idea di far terminare la somministrazione degli alcolici nelle discoteche alle ore 2 di notte le discoteche aprono una mezzanotte l'una immaginatevi cos'è accaduto nei 2-3 anni che ci abbiamo messo insieme al SILV a far slittare di un ora questo divieto perché ad oggi che poi non lo rispettava nessuno mi perdoni perché io mi ricordo con grandi rischi però mi ricordo che alle 2 tac c'erano le persone fuori e vedere se c'erano i controlli ma era una cazzata tremenda mi perdoni Zanchi perché chiudere alle 2 vuol dire che la discoteca non poteva andare inutile questo era il problema che dice il presidente? cioè quelle cose fatte proprio senza conoscere quel mondo senza conoscere non sa quante volte l'abbiamo incontrato e abbiamo insistito prima che venisse emanata questa norma e questa questione si sta rinnovando si sta rinnovando e non riusciamo a trovare l'interlocutore giusto spero che oggi la Sant'Anchè che è anche titolare di locali di Davallo abbia la sensibilità per cercare di comprendere lo comprende perché fa anche quel mestiere chiaro e adesso speriamo che abbia la sensibilità e la capacità di darci una mano e di far percepire alla politica italiana che le discoteche sono un luogo di ritrovo che deve esserci perché altrimenti la nostra gioventù va a finire e non si sa bene dove noi non siamo circoli privati non siamo imprese che non fanno spettacolo e fingono di farlo noi facciamo aggregazione facciamo spettacolo e abbiamo i nostri luoghi che sono locali sicuri assolutamente io vi devo salutare lunedì anzi martedì perdonatemi continueremo a parlare ovviamente di questo mondo dei dimenticati ma questo mondo così importante e così sociale soprattutto oggi dove i nostri giovani ahimè non parlano più io vi auguro una buona serata e non so stasera forse vado a ballare pure io posso dire una cosa ma soprattutto non siamo parrocchie cioè quando venite dentro i locali considerate che è un'attività commerciale va bene questa sera vengo da lei facciamo un ballo io lo prometto a domani passate una buona serata che è un'attività Grazie a tutti. Non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da noi, da noi più o meno. Siamo un'azienda leader nei servizi integrati con il 97,5% di soddisfazione del cliente. Contattaci sul sito romamultiservizi.it Roma Multiservizi, la nostra professionalità al vostro servizio. Un'ampia scelta di cucina internazionale ed etnica, con materie prime di ottima qualità, magistralmente interpretate dallo chef Andrea Kosalter. Ristorante Gourmans, presso Hotel The Building, in via Montebello, 126, Roma. How can I try to explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. Musica 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 Grazie a tutti